Basta con il caos negli appalti dei servizi della pubblica amministrazione, stop a legare al massimo ribasso e al non rispetto dei diritti dei lavoratori. A protestare contro la generale malgestione dei servizi pubblici all'Aquila e la Filcams CGL della provincia dell'Aquila. Questa volta nel mirino dei sindacati è finita la gestione, senza programmazione e con l'esclusione dei sindacati stessi, degli appalti per i servizi pubblici. Dagli asili nido fino all'ex caserma Campomizi, cioè la struttura che dal post-sisma ospita circa 400 studenti universitari. Una nuova casa dello studente da sempre al centro di problemi, sia per quanto riguarda i servizi di manutenzione e pulizia, sia per la mensa. Ora spunta un nuovo caso. La società Vicentive ha rinunciato all'incarico di portierato, manutenzione e pulizia solo poche settimane fa, lasciando così con il contratto sospeso 25 lavoratori e alla DSU, l'azienda per il diritto allo studio universitario, la patata bollente di correre ai ripari. A farne le spese, oltre agli studenti che non possono contare sui servizi efficienti, sono i lavoratori stessi che si trovano ora a passare da un contratto a tempo indeterminato a uno a tempo determinato e per 24 giorni soltanto. L'azienda uscente non ha avuto visione di chi doveva subentrare. L'aduso in quel momento non ci ha potuto dire chi doveva subentrare. Ovviamente noi sindacalmente non abbiamo avuto a convocare l'azienda subentrare perché non eravamo a conoscere.